La discussione sul contratto sta andando avanti molto bene, ovviamente si sta scrivendo la storia quindi serve un po' di tempo. Speriamo di chiudere il prima possibile, come vi avrà detto anche Matteo Salvini di nomi non abbiamo parlato perché l'obiettivo è prima di tutto decidere il cosa e poi il chi. C'è un ottimo clima al tavolo, io ho partecipato a una parte della riunione, si stanno affrontando dei temi importantissimi che rappresentano tutte le esigenze degli italiani e per la prima volta nella storia si porta avanti una trattativa di governo mettendo al centro i temi e questo ci rende ancora più orgogliosi. Quando si chiude la parola c'è una prima possibile, non c'è una previsione. e quello che dice Matteo Salvini è una previsione istituzionale con i capellini e voi lo accettereste? E a Matteo Salvini è ancora col tavolo.